Buongiorno, benvenuti a Bari, siamo a CrossFit 195, io sono Mirko Farchini, trainer e owner di questo box. Oggi è mercoledì e andiamo a vedere il lavoro da effettuare. Come warm up abbiamo tre round not for time di 300 metri rower, 20 lunges shoulder dislocation utilizzando il PVC piper ed infine 10 pass through alle parallele. Ci concentriamo un attimino sopra la zona del core perché le skill di oggi prevedono handstand walk, quindi abbiamo all'incirca una decina-quindicina di minuti di pratica sopra il movimento delle stand walk per poi passare al workout di oggi. Workout di oggi così composto da 3 round for time di 15 metri handstand walk, 30 metri sled pull, 15 metri squat pull, 400 metri bear hug carry, 15 metri handstand walk, 30 metri sled pull e 15 metri squat pull. I carichi indicati, sempre suddivisi in tre categorie, quindi atleti avanzati intermedi e beginner, med ball 50-35 per le donne, sled 60%, atleti intermedi 35-40 pesi per le donne, sled indicativamente del 45%. Per gli atleti beginner invece abbiamo 9 kg per gli uomini, 6 kg per le donne e sled indicativamente il 20% del carico. Buon world e buon divertimento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.